Sì, diciamo che alcuni sponsor ci stanno aiutando parecchio, soprattutto a livello giovanile. Quello che noi chiediamo è vogliamo dare grossa visibilità perché loro giustamente mettono dei soldi e è di giusto dare grossa visibilità. Noi cerchiamo in tutti i modi ai nostri sponsor di aiutare sotto questo aspetto e logicamente abbiamo proprio veramente bisogno di loro perché noi, come abbiamo sempre detto, non abbiamo un presidente col capitale. Siamo tanti amici e quindi ci aiutiamo tutti alle cerche delle sponsor e vogliamo proprio ringraziare di cuore tutti questi sponsor che in questo momento credono nel nostro progetto. Per noi i bambini sono la vita, quindi lavoriamo da sempre sui bambini e abbiamo deciso di sostenere la rinascita qui a Cuneo della parte del settore giovanile della squadra di calcio. Noi da anni cerchiamo sempre di sostenere iniziative nel Cuneese, sportive, culturali, comunque sempre dove c'è salute e sani principi. E lo sport per noi è proprio la cosa più indicata. Noi ci occupiamo ultimamente principalmente dei bambini ed è anche un po' la ragione per cui ci siamo avvicinati al mondo del calcio e della salute sportiva che per noi è un punto di riferimento.